Facciamo come se hai detto Maurizio E poi c'è un po' meno giovane E voi, siete voi vecchi Sono un po' bassi E magari ti domandò Non ci sapevamo, forse in loro E noi ce ne abbiamo questo dato Non c'è la seconda volta che ci dà Guarda qui Con le mani Preparati E cioè Se hai Non so di altri registra Grazie a tutti.